cosa prende? ma guarda pensavo alla tortiglia di patate che dici? non è che mi ispira molto e che cosa ti ispira allora? voglio cosa prendere? anch'io ciao ragazzi, ciao, vorremmo un menù lascia che io sia vado a informarmi in cucina perché non so se è un prodotto che abbiamo va bene è arrivato ah ma Laura non c'è? lascia che io sia ragazzi ci vediamo sabato 30 giugno qua al Montadipos, 100 Montadipos di Dalmi, ciao 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 ciao